Buongiorno. Buongiorno, continuiamo oggi il lavoro che ci conduce a definire un'altra, l'ultima di quelle che studiamo, un'altra ipotesi di cedimento e cioè quella detta dell'energia di distorsione. La volta scorsa avevamo fatto un lavoro di tipo preliminare, continuiamo allora da dove eravamo partiti. Ci ricordiamo che la volta precedente ci eravamo posti di problema di calcolare lo stato di tensione in termini ridotti, tensione normale sigma n, tensione tangenziale tau n, sopra una particolare superficie e cioè quella inclinata ugualmente rispetto ai tre assi principali. Questa superficie detta superficie ottaedrica o piano detto piano ottaedrico. La caratteristica di questa superficie in termini algebrici è che la sua normale, di cui qui si vede una traccia come segmento dh, altezza della piramide, ebbene questa normale ha cossegni direttori tutti uguali fra di loro e tutti quanti uguali a 1 diviso la radice di 3. Ecco allora, più in generale, se abbiamo una direzione di tipo qualsiasi, noi sappiamo che lo spostamento all'apice di quella direzione di componenti dU, dV e dV doppio secondo i tre assi, in questo caso principali, è dato dal prodotto, possiamo dire, di questa matrice diagonale per il vettore delle componenti del segmento dX, dY, dZ, il segmento dH, se si tratta del segmento ortogonale al piano ottaedrico o di un segmento qualsiasi, in effetti qui nessuno ci vincola a un particolare valore di queste tre componenti. Oppure in termini più semplici, le tre componenti dU, dV e dV doppio, sono rispettivamente εx, dx, εy, dy, εz, dZ. Ebbene, si era già dimostrato quando si parlava di campo cinematico dovuto alla deformazione pura, che esiste una cosa che si chiama allungamento relativo. Bene, inclinato in maniera qualsiasi, non abbiamo fatto ipotesi sui valori dei consegni direttori, è dato dal prodotto scalare di dU su n e diviso poi per il valore del segmento in deformato dH originario. Elaborando l'algebra del problema e scrivendola per comodità in termini matriciali, abbiamo il prodotto di questa colonna trasposta, quindi una matrice riga, per il vettore colonna che rappresenta dU su h e quindi abbiamo come risultato ε con n è uguale a εx n quadro x più εy n quadro y più εz n quadro z. E a meno di dH, che possiamo prendere come fattore di scala, costituisce la variazione di lunghezza, in realtà relativa, quindi divisa per dH, del segmento inizialmente di lunghezza dH e disposta nello spazio secondo la direzione di coseni nx, ny, nz. Ecco, poi osservando invece la componente ortogonale a n, la componente trasversale, questa si calcola applicando il teorema di Pitagora e quindi a meno di dH si trova che questo segmento è dato dalla relazione somma dei quadrati dei cateti uguale a quadrato sull'ipotenusa, quindi dopo aver adimensionalizzato per dH, φ con n al quadrato più ε con n al quadrato, quindi φ con n per dH è questo segmento, ε con n per dH è questo segmento, la somma dei loro quadrati uguale al quadrato, costruito sull'ipotenusa, quindi il modulo di dU diviso per dH al quadrato. Ecco che allora, sviluppando la relazione, sostituendo, si ottiene che dU al quadrato su dH al quadrato è εx al quadrato e nex al quadrato, eccetera, i termini in y e i termini in z. Allora, ricordando qual era il valore di ε n, che era la sommatoria, la ritroviamo qua sotto, εx nx al quadrato e così via, portando ε n al secondo membro, cambiando disegno ed estraendo radice, ovviamente c'è una indeterminazione di segno su φ con n, della quale conserviamo traccia con questo più o meno, abbiamo φ con n uguale radice di, io sono andato a capo con la radice perché in effetti l'argomento era molto lungo, quindi il primo termine che rappresenta dU su dH al quadrato, meno il secondo termine che rappresenta ε con n al quadrato. E così ci siamo calcolati l'angolo di cui ruota, per uno stato di deformazione pura, un segmento originariamente posto in una certa direzione data. Ecco, se noi allora non siamo su una direzione qualsiasi, ma siamo su una direzione ortogonale al piano taedrico, siamo cioè sulla direzione che congiunge l'origine degli assi con il punto in cui la normale al piano taedrico la intercetta, ebbene, allora abbiamo come cossegni direttori 1 su radice 3, 1 su radice 3, 1 su radice 3, quindi ε con n che era εx nx al quadrato e così via e ε con x per il quadrato di 1 su radice 3, cioè un terzo, analogamente per εy, analogamente per l'ultimo termine in z, quindi εx più εy più εz, sembra un po' uno scioglilingua, il tutto diviso 3. Sostituendo gli stessi valori dei cossegni direttori, tutti uguali fra loro, nell'espressione precedentemente vista per φ con n, otteniamo più o meno, memoria dell'indeterminazione di segno, radice di, ecco questa prima frazione che era dU su dH al quadrato, meno questa εn al quadrato, la quale può essere ulteriormente elaborata con qualche passaggio che adesso non sviluppo che potrà essere rivisto in seguito, in un'altra occasione che poi vi sottoporrò e quindi abbiamo linea di frazione, 9 denominatore che ovviamente si potrà portare fuori estraendo nella radice, ecco quello che è interessante, una somma di binomi al quadrato, ciascuno dei quali composto di εx meno εy e così via per mutando gli indici, εx meno εz, εy meno εz, questa è la rotazione della direzione ortogonale per l'origine degli assi principali e ortogonale al piano taedrico. Tutto questo è tutto lavoro preparatorio, quindi è come se stessimo pigliando una lunga rincorsa, questa è una figura che servirà a chi potrà affrontare il problema poi da solo, di promemoria e fa vedere qual è il significato geometrico di εn e di φ con n, in realtà il segmento h, h' rappresenta εn per dh, quindi ovviamente εn è h, h' riferito alla lunghezza del segmento di cui si sta parlando o h, è analogamente per φ con n, questo in vista sonometrica e questa invece in una vista che contiene il piano passante per c, per l'origine e per il punto k. Ecco, una cosa analoga, uno sviluppo di formule analogo si può eseguire per le tensioni, allora in termini di assi principali abbiamo sulle tre facce triangolari coordinate forze esclusivamente ortogonali, perché sono principali, quindi σx per ds, σy per ds, σz per ds e poi abbiamo sulla faccia inclinata σm con n per ds con n, vi prego di non considerare questo n perché è un errore, qui ci vorrebbe σy per ds, ds è l'area dei triangoli tutti e tre uguali intercetti sui piani principali, ds con n, ecco n sta a ricordare la normale n e l'area invece della superficie inclinata. Allora la σn ottaedrica con sviluppi analoghi ai precedenti è σx più σy più σz principale diviso 3. La τ ottaedrica si calcola, come abbiamo già fatto in precedenza parlando di tensioni, qualche lezione fa, come applicazione del teorema di Pitagora, quindi τ n al quadrato più σn al quadrato uguale a t al quadrato. Se si sta parlando del piano ottaedrico sarà τ n ottaedrica al quadrato più σn ottaedrica al quadrato uguale a t al quadrato, t ottaedrica al quadrato. Quindi questa è la specializzazione di una formula generale già vista e che graficamente io qui ho rappresentato con questo vettore che nelle mie intenzioni giace sul piano ottaedrico, che è un vettore consegnato in azzurro come la formula. Ecco allora che sostituendo al posto di σn ottaedrica l'espressione che era stata vista due figure fa e calcolando il valore di T al quadrato con passaggi che a questo punto dovrebbero essere noti, otteniamo che τ con n ottaedrica al quadrato è uguale a questa prima frazione che rappresenta il quadrato di T, il vettore della tensione relativa al piano ottaedrico, meno questa seconda frazione che rappresenta σn ottaedrica al quadrato. Allora qui eseguo quei passaggi che non ho eseguito prima a proposito di φ con n e cioè si eleva al quadrato e si fa denominatore comune e poi si scrive con qualche passaggio vedete facendo denominatore comune qui siccome in questo secondo termine abbiamo un 9, qui invece abbiamo 3, allora qui dovremmo moltiplicare per 3, però 3 meno il valore di σx per esempio che compare a causa dello sviluppo di questo quadrato da origine a un 2 che io sviluppo dividendolo in due parti, quindi due volte σx quadro da origine a σx più σx, perché l'ho fatto? L'ho fatto anche per σy e per σz. Poi ci sono i doppi prodotti col segno meno che provengono dallo sviluppo di questo quadrato. L'ho fatto perché qui si vede molto bene in maniera grafica che se prendiamo uno dei due σx, poi uno dei due σy e poi il meno 2 σx σy otteniamo nient'altro che il quadrato del binomio σx meno σy. Lo stesso gioco lo possiamo fare con un'altra coppia σx e σz e con un'altra coppia σy e σz e questo fa vedere in maniera molto facile che la formula finale è questa, la tau n ottaedrica al quadrato è uguale a una frazione che ha denominatore a 9 e ha numeratore a questa somma di binomi, σx meno σy al quadrato, σx meno σz al quadrato, σy meno σz al quadrato, che è un risultato formalmente analogo, cambiando la simbologia a quanto era già stato ottenuto in precedenza a proposito di stato di deformazione pura. Quindi questo lavoro preparatorio ci ha condotto a scrivere relativamente al piano taedrico che cosa? In termini di tensioni, che è ciò che si vede bene in questa figura, ci ha aiutato a definire il vettore normale che può essere inteso come σn e il vettore tangenziale che può essere inteso come tau con n, ma gli stessi due vettori possono essere intesi come espressioni di ε con n oppure ε con n dh e cioè spostamento del segmento originariamente posto da O al punto in cui cade, essendone ortogonale, sulla superficie ottaedrica, quindi il segmento che non avendo messo le lettere che io devo per forza indicare dicendo questo segmento. Naturalmente le scale non sono giuste perché gli spostamenti rispetto al segmento originario sono molto piccoli, le scale sono molto ampliate per poter vedere le cose. Questo rappresenta in una scala opportuna lo spostamento dell'apice del segmento che parte dall'origine nella direzione del segmento stesso e se il materiale è isotropo è esattamente lo spostamento che viene prodotto dalla tensione σn. Il segmento che è qui rappresentato sbieco vuole essere un segmento giacente sul piano taedrico che è la traccia dello spostamento dovuto alla rotazione φ con n, quindi questi due segmenti hanno un significato ambivalente, da una parte forze o tensioni, dall'altra parte spostamenti o deformazioni, siano esse deformazioni lineari oppure deformazioni angolari. Ecco questo è il punto a cui io avevo voluto arrivare. Allora dopo questo lavoro preparatorio cosa facciamo? Consideriamo che sulla superficie ottaedrica sono applicate delle forze costituite da tensioni moltiplicate per l'area che è l'area della superficie ottaedrica, quindi queste forze sono per quanto riguarda la componente normale σ con n ds con n e per quanto riguarda la componente tangente tau con n per ds con n. Ecco, i punti di applicazione di queste forze, anzi il punto di applicazione perché è uno solo, di queste due forze è il centro, il baricentro del triangolo ottaedrico che è anche il punto in cui cade la normale che parte dall'origine. Questo punto quindi, sede delle forze applicate, delle risultanti delle tensioni, si sposta come si sposta l'estremo di quel segmento e lo spostamento abbiamo imparato a essere nella direzione del segmento stesso, quindi nella direzione di σ n ds n pari a ε con n per dh e nella direzione di tau vale φ con n per dh. Allora se noi vogliamo calcolare il lavoro complessivo che viene fatto non dobbiamo fare altro che sommare il lavoro compiuto da σ n ds con n per lo spostamento nella sua stessa direzione, quindi un puro e semplice prodotto algebrico più il lavoro fatto dalla tau con n ds n che è una forza per lo spostamento del suo punto di applicazione, quindi abbiamo un primo lavoro e un secondo lavoro. Attenzione che quando si calcola il lavoro che viene compiuto dalle forze esterne su un corpo, noi immaginiamo che le mie dita indichino i tre assi principali e grosso modo, visto che mi sto sforzando di farle diventare lunghe e uguali, la superficie che unisce i punti finali delle mie dita costituisca la superficie triangolare ottaedrica. E' ben chiaro che un tetraedro ha non soltanto la faccia obliqua ma ha anche le tre facce agenti sui piani coordinati, allora il lavoro complessivo che viene fatto su un corpo è dato dal prodotto delle forze agenti su tutte le facce per gli spostamenti dei loro rispettivi punti d'applicazione. Ma noi però qui ci poniamo un compito specifico, cioè quello di calcolare il lavoro che viene eseguito per spostamenti relativi e quindi il lavoro che viene eseguito astraendo dallo spostamento rigido. Esattamente come succederebbe se io mi trovassi nello spazio reccando in mano una molla. Allora se io recassi in mano una molla e volessi calcolare il lavoro che si trasforma in energia elastica accumulata dalla molla, la cosa importante è che io guardi come si sposta l'estremo destro rispetto all'estremo sinistro della molla mentre io la tiro. Se poi io a questo spostamento che corrisponde a una deformazione pura sovrappongo cose, dipende dal fatto di aver assunto che il materiale sia isotropo. Questa è l'assunzione fondamentale. Altro lavoro preliminare, quindi qui apro un'altra parentesi, che io qui introduco è questo. Notiamo che se scriviamo le equazioni costitutive del materiale per la εx e per la εy, perché ho scelto proprio queste due? Potevo scegliere un'altra coppia, εx, εz, εy, εz. Evidentemente io mi appresto a mostrarne soltanto uno, lasciando all'intelligenza di chi legge di compiere il calcolo negli altri casi. Ebbene, se noi sottraiamo membro a membro la prima equazione, anzi la seconda dalla prima, otteniamo εx meno εy, quindi un binomio. E a secondo membro notiamo che σz compare allo stesso modo, con lo stesso segno e con lo stesso coefficiente nu, coefficiente di Poisson, quindi sottraendo ovviamente si elimina. E σx, σx meno meno, quindi più nu σx, permette di raccogliere al fattore comune 1 più nu. Stessa cosa che capita per meno σy, quindi avremo 1 più nu diviso e σx meno σy. La cosa importante è che l'isotopia del materiale ci consente di dire che il binomio in ε da origine allo stesso formalmente identico binomio in σ, a meno ovviamente di una costante moltiplicativa che dipende dai parametri del materiale. Lo stesso per l'altra coppia, x-z e per la coppia terminale y-z, si possono scrivere tutte e tre. Questo lavoro allora viene introdotto per quale motivo? Per questo. Ecco che allora noi possiamo dire che φ con n che era, a parte il segno di cui adesso ci potremmo anche dimenticare, un terzo la radice della somma dei binomio al quadrato, sostituendo a ciascun binomio il binomio corrispondente, anzi la sua espressione in funzione di σ, che da origine ha un binomio formalmente analogo, a meno di una costante che naturalmente è quadrata e poi estratta la radice esce fuori di radice pari pari, quindi 1 più nu diviso e, il 3 compariva già prima, ci dà origine a una radice formalmente identica che contiene però la somma di questi binomi al quadrato. E allora in generale noi ne potremmo trarre che la φ con n ottaedrica è uguale a 1 più nu fratto 3e, la τ n ottaedrica, che aveva questa espressione. Ecco allora che se noi riprendiamo le formule originarie e un lavoro che abbiamo già fatto è il calcolo della φ con n ottaedrica, facciamolo un calcolo analogo per le ε con n, il primo dei due passaggi che ho mostrato, ebbene sostituendo al posto di ε con n, la sua espressione in funzione della σn, naturalmente ottaedriche, e otteniamo questa espressione al secondo membro, nella quale mi sono preso cura di separare l'un mezzo, il termine che dà il prodotto di Sn per dH, le costanti del materiale e poi la σn ottaedrica al quadrato. E quindi otteniamo le due forme di lavoro, quello dovuto alla tensione normale, è quello dovuto alla tensione tangenziale, che sono forme di lavoro, scritte adesso in termini di tensione al quadrato, completamente disaccoppiate. E questo grazie a due cose, primo alle proprietà del piano taedrico, secondo alle proprietà dell'isotropia. Quindi l'energia elastica che viene accumulata all'interno di un corpo può essere calcolata come somma di queste due forme di energia disaccoppiate. È stato semplice eseguire questo calcolo grazie alle proprietà particolari del piano taedrico. Ora notiamo che la piramide che costituisce l'ottaedro, che era una piramide che aveva base la superficie inclinata, taedrica, e altezza il segmento dH, che era proprio la normale condotta, il segmento condotto normalmente dall'origine degli assi a quella superficie, essendo una piramide a un volume che è l'area della base per l'altezza diviso 3. E allora noi possiamo considerare il lavoro per unità di volume che viene calcolato semplicemente, qui ho riportato la formula originaria senza trasformazioni, ma avendo diviso per dV il volume del tetraedro. Ebbene sostituendo il valore di dV che ho scritto nell'immagine precedente, e cioè dSN per dH diviso 3, ovviamente si eliminano le grandezze arbitrarie dSN e dH come deve essere e si ottiene il lavoro per unità di volume che a questo punto vale 3 mezzi, 1 meno 2 nu diviso E, sigma E no te edrica al quadrato. Procedendo in maniera analoga si ottiene il lavoro per unità di volume fatto dalla tensione tangenziale che ha questa particolare espressione. E quindi il lavoro complessivo per unità di volume è dato dalla somma di queste due forme di lavoro o di energie fra di loro disaccoppiate. Il lavoro delle tau non produce niente sulle sigma e il lavoro delle sigma non influisce sul lavoro delle tau, si possono tenere separate. Questa è stata vista fino ad ora come una proprietà di natura puramente algebrica e a questo punto cerchiamo di capire quale significato fisico si può dare. Chi per esempio abbia fatto qualche corso in cui si tratti la dinamica dei gas ricorderà che il lavoro che viene fatto per unità di volume in un gas che ha una data pressione e che si espande di una quantità dV vale la pressione moltiplicata alla variazione di volume. È la stessa cosa che è stata ottenuta qua e per vederlo basta seguire quanto segue con un po' di attenzione. La variazione relativa di volume, intesa come la variazione di volume riferita al volume originario, vale la somma εx più εy più εz. ebbene questa nient'altro è che tre volte la ε con n ottaedrica che valeva esattamente questo trinomio diviso 3. Quindi la variazione di volume relativa è tre volte la ε n ottaedrica. Ecco che cominciamo a capire che la ε n ottaedrica ha un significato particolare e cioè rappresenta la variazione relativa di volume, di un volume nell'intorno del punto di cui stiamo parlando. Allora viene da pensare che una cosa analoga succeda anche per la tensione ottaedrica. Ebbene alla tensione ottaedrica, che è poi la media delle tre tensioni principali, noi potremmo pensare, qui in effetti l'operazione appare più arbitraria però di prima, potremmo pensare di assegnare il significato di una specie di σ media. Allora il lavoro per unità di volume fatto dalla σ media, che poi potrebbe essere equiparata a una pressione media in un gas per esempio, per la variazione di volume che abbiamo calcolato come εv, quindi questo è un lavoro riferito al volume originario, è se si tratta di un corpo elastico vale un mezzo σm per εv, sostituendo al posto di ym la sua espressione che la eguaglia a σn ottaedrica e sostituendo invece a εv, variazione relativa di volume, la sua espressione in funzione della εn ottaedrica, quindi tre volte εn ottaedrica, si ottiene globalmente, tenendo conto del legame fra la σ e la ε, tre mezzi, 1 meno 2 nu diviso E per la σn ottaedrica al quadrato. Quindi il primo dei due termini di energia che noi abbiamo visto calcolare in precedenza, rappresenta il lavoro per unità di volume compiuto dalla pressione media costante. Ora, un lavoro di questo tipo non è nient'altro che il lavoro della pressione idrostatica, viene chiamato lavoro idrostatico. Allora, mi segue che per differenza quanto resta, cioè il lavoro prodotto dalla tau, è il lavoro di distorsione, quindi globalmente. L'energia che abbiamo, il lavoro complessivo, quindi l'energia accumulata che abbiamo calcolato in precedenza, si scinde nella somma di due parti. La parte idrostatica che corrisponde a interessarsi soltanto della variazione di volume senza preoccuparsi se vari di più il lato x, il lato di lunghezza dx del parallelepipedo di cui stiamo parlando, oppure il lato dy oppure il lato dz. Quello che invece l'energia di cui stiamo parlando adesso, l'energia di distorsione, corrisponde a quanto è accumulato come energia non perché stia variando il volume, ma perché stanno variando gli angoli fra facce opposte, fra facce anzi no, fra facce adiacenti. E quindi l'energia legata allo sfiguramento del sistema, alla variazione di angoli del parallelepipedo di riferimento. Ricordando che G valeva E diviso due volte 1 più nu, io ho fatto un ulteriore passaggio che conduce a questa formula. Allora, questo lunghissimo lavoro preliminare ci ha condotto a dire che cosa? Ci ha condotto a dire che esiste un'energia idrostatica e un'energia di distorsione. Ebbene, non si dimostra ma si verifica in maniera sperimentale che è abbastanza vero che l'incipiente snervamento si produce quando in un volume elementare nell'intorno del punto che si sta studiando, l'energia di distorsione raggiunge un valore limite caratteristico del materiale. Attenzione che la particolare espressione per l'energia di distorsione che io qui ho ricavato, e cioè il fatto che l'energia di distorsione sia stata scritta esplicitamente in funzione, quindi a meno di una costante, della tau n o taedrica, fa vedere che a meno di una costante porre un limite per l'energia di distorsione o estraendo una radice, porre un limite per la tau n o taedrica è sostanzialmente la stessa cosa. Allora nei testi in effetti si trovano queste due diverse formulazioni, questi due diversi approcci, c'è chi pone un limite all'energia e c'è chi pone un limite, è una cosa, quest'ultima secondo me è un po' più misteriosa se non si capisce in questo modo, al valore della tensione o taedrica. E si dice, si ha incipiente snervamento quando nel corpo di cui io sto calcolando le tensioni, quindi un corpo in cui sono presenti tensioni le più svariate, la tensione o taedrica raggiunge quel particolare valore limite che si raggiunge per esempio nella prova di trazione quando si ha incipiente snervamento, oppure lo stesso discorso fatto sulle energie. Allora direi che possiamo concentrare la nostra attenzione o sulla tau n o taedrica o sul suo quadrato, la cosa sarà indifferente. E fare questo ultimo passaggio. Ecco allora che siamo in dirittura d'arrivo. Allora, incipiente snervamento significa o calcolare il valore limite per quella energia o, ciò che abbiamo dimostrato essere equivalente, calcolare il valore limite per la tau n o taedrica. Visto che abbiamo libertà di scelta, possiamo scegliere quello dei due che ci convenga di più. Il risultato ovviamente sarà lo stesso. Ecco che allora, naturalmente mi conviene ragionare sulla tau o taedrica e allora dire questo. Quando sto eseguendo la prova di trazione, l'ipotesi che io ho fatto dice che l'incipiente snervamento si ha perché la tau n o taedrica ha raggiunto un valore limite, quindi qui questi indici molto lunghi, tau n o taedrica limite, un valore limite caratteristico del materiale. Ora, calcolandosi la tau n o taedrica limite, essa sarà un terzo radice di, ecco, nella prova di trazione cosa abbiamo? Sigma y e sigma z, zero. E abbiamo soltanto quella che normalmente chiamiamo per comodità sigma x, limite. Cioè il valore al quale noi vediamo avvenire o lo snervamento o quando non ci sia lo snervamento, il suo equivalente, e quindi il limite di proporzionalità, la rp02. Ebbene, la tau n o taedrica limite vale, sviluppando i calcoli sotto radice, radice 2 diviso 3 per orh orp02. Ecco, questo è il valore che si verifica sulla superficie o taedrica all'interno del provino durante la prova di trazione, anzi quando si produce l'iniziale snervamento. Siamo adesso maturi per ritornare alla nostra disequazione di verifica fondamentale. Quindi in un caso generale noi calcoleremo la tensione tau n o taedrica, dipendente dalle tensioni che abbiamo prodotte nel punto nel quale stiamo eseguendo la verifica di resistenza e vedremo di stabilire se questa è minore o al limite uguale alla tau n o taedrica limite che è una caratteristica del materiale. In termini di calcolo, quindi, dovremmo procurare prima naturalmente da sigma x, sigma y, sigma z, le tre tensioni principali o qualcosa che ci conduca a questi valori, come poi praticamente vedremo durante le applicazioni che faremo in seguito. Ci calcoliamo la tau n o taedrica, quindi un terzo radice di, questa radice, e questo primo membro viene dichiarato, oppure ci si interroga se sia, minore o uguale della tau n o taedrica limite che è radice di 2 diviso 3 sigma x limite, calcolata giusto precedentemente. Allora evidentemente i due denominatori 3 scompaiono e rimane quindi il confronto fra la radice a primo membro e radice 2 sigma x limite, caratteristica del materiale a secondo membro. Spostando la radice di 2 a primo membro si ottiene questa espressione che è più gradita perché di significato più pulito, e cioè 1 su radice 2 radice della somma dei binomi al quadrato, minore o uguale di sigma x limite. E questa è l'impostazione della classica equazione di verifica. Un primo membro che poi una volta eseguito il calcolo è uno scalare che rappresenta che cosa? La tensione che va confrontata con la tensione caratteristica del materiale, la tensione limite. Allora la tensione a primo membro da calcolarsi che deve essere confrontata con la tensione caratteristica del materiale assume ipso facto il ruolo di tensione equivalente o tensione ideale. Insomma, se ci piacesse esprimerci in questi termini, tutto avverrebbe come se, anche se è un modo un po' barbaro di esprimersi, invece di esserci uno stato di tensione un po' più complicato, definito dalla compresenza di sigma x, sigma y e sigma z, tutto avviene come se avessimo uno stato di tensione di trazione pura caratterizzato da una tensione di trazione essa sola presente pari a sigma equivalente o sigma ideale. Ebbene, questa espressione che ci dà la sigma ideale è l'espressione cosiddetta o dell'energia di distorsione, ovvero di Fommises, oppure della ipotesi della tensione tangenziale massima. Concludiamo il nostro lavoro con questa ultima figura. In questa ultima figura noi qui facciamo vedere come si comportano le due ipotesi di incipiente snervamento, ovvero di cedimento per incipiente snervamento, quali? Quella calcolata prima, quella di tresca, quella della tensione tangenziale massima e l'ultima, quella che possiamo chiamare per brevità di Fommises. Ebbene, noi vediamo che queste due ipotesi, ricordiamoci che quella di tresca dava origine a questo esagono, no? Ecco, potremmo notare, osservando la struttura dell'equazione di Fommises, che invece essa dà origine a una curva limite che è un'ellisse di semiassi inclinati a 45 gradi rispetto agli assi principali. E questa è una dimostrazione che omettiamo, la prendiamo per buona. Ebbene, l'ellisse di Fommises e l'esagono di tresca coincidono sui vertici dell'esagono e questa è una verifica che è facile fare. Si vede naturalmente che per la loro forma l'ellisse e l'esagono sono caratterizzati dal fatto che l'ellisse è esterna all'esagono. Questo che cosa significa? Consideriamo per esempio, tra i sei casi possibili, i punti di questa zona. Questa zona che è compresa fra l'arco di ellisse e la corda che rappresenta invece il limite per l'ipotesi di tresca. Allora, ricordiamoci che per tresca i punti in sicurezza, cioè i punti per i quali non si ha snervamento, sono quelli interni. Quindi questa lunella che è bensì interna all'ellisse ma esterna all'esagono non è ammissibile. L'ipotesi di tresca ci direbbe che quando le due tensioni sigma x e sigma y, ricordiamoci che questo è ottenuto nel caso semplice ma frequente sigma z uguale a zero, bene, quando queste due tensioni si trovassero rappresentate qui, ebbene per tresca si avrebbe snervamento, mentre per Fommises non ancora, perché siamo all'interno dell'ellisse. Questo significa che Fommises considera ammissibili, non snervamento, delle combinazioni di tensione, che noi vediamo come punti nel piano, che invece per tresca non sarebbero ammissibili. Allora, l'ipotesi di Fommises è leggermente meno restrittiva e leggermente meno pessimista, in altri termini, dell'ipotesi di tresca. Allora, quando si usa una e quando si usa l'altra? E qui bisogna essere pratici. Se noi disponessimo dei punti sperimentali come sono stati ricavati dagli sperimentatori in prove biassiali, che io non descrivo perché ci sarebbe qualche complicazione nel capire come questo è stato fatto, ma immaginiamo che ci sia una macchina di prova che consenta di trazionare in due direzioni ortogonali, una specie di prova di trazione ulteriormente complicata. Ebbene, si vede che si ha incipiente snervamento per combinazioni sigma x e sigma y che danno origine a punti sperimentali che cadono grossomodo fra tresca e Fommises, una nube di punti che cascano dentro questa lunella sostanzialmente. E occorre ancora dire quindi che l'ipotesi di tresca è rispetto ai risultati sperimentali eccessivamente restrittiva, mentre sembra leggermente più realistica l'ipotesi di Fommises. Tenendo conto del fatto che comunque qualsiasi dato sperimentale è soggetto ad errore, l'errore sperimentale che si produce su questi punti è dell'ordine di grandezza dello scarto fra le due ipotesi. E allora succederà che le due ipotesi di fatto potranno essere usate in maniera del tutto indifferente. La tradizione stabilirà quale delle due si usa. Quando si è in ambito normativo di origine prevalentemente tedesca è più facile trovare l'ipotesi di Fommises. Quando si ha invece un ambito normativo di origine anglosassone è più normale trovare l'ipotesi di tresca. Non ultimo occorre considerare che mentre l'ipotesi di tresca richiede delle verifiche per sapere in quale dei rami corde noi stiamo, l'ipotesi di Fommises ha la comodità di dare origine a una formula unica che può essere introdotta nei codici di calcolo senza particolari complicazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.